Ho 10 famiglie che tutte sono senza telefono. Ma lei signora da quanto tempo? Da 8 giorni. Avete fatto qualcosa? Madonna santa! Chi che va a mandare un'email perché io non ho niente? Ho chiesto, sì, mia moglie ha mandato, mia moglie ha fatto, mia moglie ha chiesto. Ma madonna, è impossibile perché è caduta una pianta a San Michele. Si esprime così una telespettatrice ultra settantenne che abita in via Gaggion Alto, zona San Michele di Bassano, esasperata perché il telefono di casa non funziona più in tutta la via a causa di un albero che si è abbattuto pare sui fili del telefono. Non ne posso più, perché io ho bisogno anche di telefonare, perché il mio cellulare è un piccolo cellulare che non prende. Devo mettermi in una posizione se prende o no. Anche ieri, qui che era venire, ho detto senti, fai qualche cosa a Fasino. Allora loro mi hanno detto, guardi, cosa possiamo fare noi? Niente. Chiedo a Rete Veneta se per favore puoi venire a sistemare e aggiustare che il Benedetto linea, il telefono. Mi guardo tutte le sere, tutte le sere, guardo. È per quello. Perfetto. Adesso ho proprio detto, adesso basta. Provo con Rete Veneta a vedere se qualcuno mi dà una mano, mi aiuta. Noi di Rete Veneta andremo a fondo sulla questione e cercheremo di risolvere il problema, come già fatto, contattando chi di dovere.